Buon pomeriggio da Ragusa, si è appena concluso il settimo focus rematologico venuto dal dottor Mario Benchivegni organizzato da VEventi e Formazione, due giornate di alta formazione anche in modalità online. Si è parlato soprattutto dell'aspetto multidisciplinare nell'approccio da dedicare alle malattie reumatologiche e tra i relatori il dottore Giampiero Castelli, il direttore dell'unità di dermatologia dell'ospedale Rizza di Siracusa che è anche centro prescrittore dei farmaci biologici per le malattie della pelle come la psoriasi. Ma facciamo un passo indietro, come si dice in questi casi, rivolgiamo il nastro perché con il dottor Castelli proprio qualche settimana fa eravamo sempre in diretta da questa sede per parlarvi della dermatite atopica e delle novità terapeutiche e ci sono delle novità a questo punto terapeutiche dedicate proprio ai più giovani in pediatria. Che cos'è accaduto nel frattempo, dottor Castelli? Niente, è accaduto che questa settimana diciamo è stata autorizzata la rimborsabilità per il farmaco che era l'unico che veniva dato, che era il dupilumab, veniva dato nell'ezema atopico grave dell'adulto e invece ora la rimborsabilità va dai 12 anni in su, quindi abbiamo la possibilità di curare ragazzi che hanno meno di 18 anni, che ce ne sono tantissime, specialmente negli adolescenti è una malattia molto comune. E l'obiettivo è quello di abbassare ulteriormente l'età se non vado errato? Penso di sì, questo diciamo quindi indica la maneggevolezza e la sicurezza del farmaco perché se vengono utilizzati sempre in soggetti più giovani quindi la bontà e la versatilità, la maneggevolezza del farmaco questo indica. Dicevo, lei è responsabile del centro prescrittore dei farmaci biologici per il trattamento delle malattie della pelle come la psoriasi e di psoriasi lei ha parlato nell'ambito del congresso voluto dal dottor Mario Bentivegna. Anche in questo caso il supporto dei farmaci biologici ha dato una svolta all'aspetto terapeutico. Sì, la cura è cambiata radicalmente perché specialmente, ma è cambiata non solo la cura ma anche l'approccio terapeutico ma anche l'impostazione proprio dal punto di vista patogenetico, dal punto di vista della malattia stessa. Prima si conosceva una malattia che colpiva la pelle quindi aveva una valenza sola estetica. Invece ora si è vista che la patologia porta a comorbilità e quindi l'utilizzo di farmaci che vengono utilizzati sia dal reumatologo, sia dal gastroenterologo e sia da altri specialisti per questo discorso della comorbilità. Quindi parliamo di una infiammazione a tutto spessore che colpisce la pelle, colpisce l'articolazione e vari tratti dell'organismo umano. Ha cambiato completamente perché noi abbiamo avuto prima delle molecole che venivano utilizzate e quindi siamo passati da una terapia topica, prettamente con creme o altre cose. Pre-istoria avete detto. Pre-istoria. Ormai quando abbiamo, diciamo ci rivolgiamo principalmente, le creme si utilizzano ancora però come ausilio oppure per lesioni molto minime. Ma quando parliamo di un impegno cutaneo importante in cui quindi parliamo della forma della psuesa moderata grave, l'indicazione è di utilizzare i farmaci biologici. Allo stato attuale fino ad oggi la rivoluzione è per 11 farmaci biologici quindi ne abbiamo 11 a disposizione con le loro peculiarità e caratteristiche. E lo ribadiamo, dottore Castelli, lei è appunto il responsabile di uno dei tre centri prescrittori della Sicilia orientale. Prima con il manager dell'azienda sanitaria provinciale 7 di Ragusa a Lico abbiamo parlato di eccellenza del sistema sanitario siciliano. Anche questo rappresenta ovviamente un'eccellenza perché i pazienti possono, come dire, basarsi, avere a disposizione un centro prescrittore a pochissimi chilometri di distanza dei propri centri di residenza. Sì, diciamo che i tre centri a cui se le faceva riferimento erano principalmente per la prescrizione dell'eczematopico, ma i centri prescrittori per la psoriasi sono più di tre nella Sicilia orientale. Però ecco, non sono legalizzati, per esempio a Ragusa non c'è un centro prescrittore per la psoriasi a Siracusa e c'è poi a Catania. L'oggi è cambiata la terapia, quindi siamo dei centri di eccellenza. È stato individuato dei centri perché sono dei farmaci un po' particolari. Oltre al discorso sono dei farmaci costosi, però sono dei farmaci che devono essere maneggiati da persone che, diciamo, abbiano esperienze in questo campo. Ecco, sono dei farmaci importantissimi ma che devono essere anche per questo, diciamo, il legislatore ha individuato i centri che poi si fa riferimento ai vecchi centri ospedalieri. Infatti io, diciamo che ormai ho un'età che fra non molto sono pensionabile, dico che io sono partito dall'82 come assistente di dermatologia nel reparto e noi avevamo 40 posti letto. Quindi allora c'era il discorso che si ricoverava molto, c'era il discorso del posto letto. Poi da 40 siamo passati a 20, ora non abbiamo più posti letto ma agiamo in dei ospedalieri e in dei servizi. Ma questi centri però, la nostra professionalità, la nostra esperienza, perché all'oggi andavamo a che fare con pazienti, quindi per questo il legislatore individuò nella gestione di questi farmaci un po' particolari un dermatologo che avesse anche un'esperienza ospedaliera. Grazie dottor Castelli per questo aggiornamento che ci ha fornito. Parlo soprattutto di quello in campo pediatrico per quanto riguarda la dermatite atopica. Grazie, non mancheranno altri appuntamenti di approfondimento con il dottor Giampiero Castelli, responsabile dell'unità di dermatologia dell'ospedale Riz di Siracusa. Grazie ancora, buona giornata a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti.